e bella a tutti ragazzi bentornati in questo nuovissimo video siamo qua insieme a mia cugina siamo qua nel nuovissimo e primissimo video di brawl stars insieme a mia cugina metti pronto grazie lei usa solo edgar infatti se vedete che ce l'ha al 18 ehm lei usa solo quello boccio all 8 al grado 8 ma c'ha edgar al 18 al grado 18 usa solo lei io sto usando Eugenio perché facciamo del club pazzesco lei che li pucia quando c'è tante gemme io che li grabbo da noi quindi qui sta apriamo gli inseriti ricordi di scrivere attivare la campanella e lasciarle al commentare con i video e attivare la campanella se vi piace i miei video di brawl stars arriviamo a 3 like per un prossimo video di brawl stars insieme a mia cugina probabilmente stasera saremo in live sul tuo canale e anche sul mio quindi andate a seguirci con la Giorgia staccati i bisognanti è una morta perché c'è un buio che è troppo perso infatti c'è il succo succoso scappo 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 di virino ma sono un po' siamo messi male se lo kill è un nuovo gemme però ah no ma sei ecco magari ce la potremmo anche fare anche noi ne abbiamo sei però poi ce lo cuperea la vita ecco qua siamo un po' messi male sono messi male sono messi male sei morta sei morta io vorrei campere un attimo qui io ho tipo nove personaggi ma c'ho escelle il grado no cioè quattro poi c'è il grado otto lei il grado diciotto infatti lei ha un sacco di brilla ha trovato Jackie ha sbloccato Jesse ha il primo a Steca ne ha tantissimi ma non ne usa ma non ne ho comunque siamo morti siamo arrivati i terzi i terzi più due coppie e zero poi comunque devo dirvi la verità in questa cassettina con i brawl che ho riscatato stamattina guardate che ho trovato ho trovato BB 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 questi sono i miei gradi comunque ora direi di usare facciamo dai voglio usare BANAMET usiamo BANAMET dai ci sta tu ce l'hai il 18 Edgard lei sul suo canale sta facendo lei lo vuole portare al massimo quindi il grado 35 se non sbaglio perché il 40 mi sa che ancora non c'è non ci gioco molto sì lo metteranno il 40 anche il 45 sono crashato veramente io vedo ancora il tuo personaggio ma speriamo che la registrazione sta andando avanti credo di sì ma sono crashato ho dovuto mettere il wifi col wifi laggero un botto ecco però sei ancora nella partita eh lo so ma io lo guarda qua speriamo che la registrazione si senta tutto se lui si muove cioè il tuo personaggio si muove ok sono entrato ok è qui poi lui magari mi viene a dire ma non c'è 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 spero che si sia sentito prima però stavo crashando ora crashate dì sì però che lo crashando ma è l'ho tirata e no apri la mia bomba ma cosa fai da qui ma non c'è ma non c'è ma non c'è easy vinta 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 easy 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 più 9 bella 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 facciamo un'altra partita io direi di usare il nostro si senti più tranquilla usiamo Bea perché mi piace un sacco e fatemi sapere anche qual è il vostro brawler preferito io è gelindo la donna vabbè indovinate anche quello di mia cugina chi lo indovina gli regalo di 100 euro sarebbero 100 euro buttati in eccesso perché sai com'è ha 500 coppe un poco più di 100 coppe di 500 coppe ha un sacco di brawler e guarda caso c'è solo Edgar oltre alle 10 stai ma non è troppo ma non è ma non è ma perca la bella carne vediamo ancora un po' quel video poi lo ritorniamo dopo bella messa edgar che salta sei cresciata no però ok perché vedevo fermo non sento manco i suoni mamma mia di farlo questo lo so ma mi sa che sono chiamata non è questo non è questo cosa è che fa schifo non è Ok, killer safelli? La vuoi killare questa rosa, così arriviamo secondi. Ok, ce la potremmo fare Il lato Vinta, vinta Easy, easy Easy, più 9 ancora Bella, bella, bella Allora, tu ce l'hai ancora Gli faccio vedere il suo profilo Ecco Allora, vi dico solo che Stekka, Colt, Bull e il primo Se vedete che a quelle poche coppe Le ho usate io prima Ecco, giusto per farvi capire Lei ha usato solo Shelly, Pocho, Edgar Basta Direi di cambiare brawler Per l'ultima partita Probabilmente usiamo Il signor Giling Vai Ovviamente Mia cugina cambia ogni partita Il brawler Perché lei ne ha Cioè, ne usa tantissimi Che non capisco Io ogni volta le dico Ma Giorgia, ma basta Cioè Continua a cambiare brawler Non lo so Cioè, veramente Lei lo cambia talmente Tante volte Che Ogni tanto Mi cacchio La devo cacciare Cioè Non lo so Non gioco più Io ogni tanto con lei Perché Lo cambia ogni volta Cioè, ogni volta E non va bene E non va bene Meno 6 coppie A me meno 5 A me meno 6 coppie Ora È il gadget Che trovi Oltre il livello 7 Se metti pronto Mi fai un grandissimo favore Aspetta che Voglio vedere Quando posso prendere questo Ok Ho 634 coppie Ok, grazie Grazie, grazie Comunque Vedete che Cambia ogni volta Il brawler Cambia ogni volta Il brawler Ogni volta Comunque Bibi e Edgar Sono abbastanza simili E Magari poi un giorno Mi fa Poi magari un giorno Faremo anche un video Anche insieme a mia sorella La vorrà Non credo Perché le mie Vole muovi Sono appena morto Ma si può Si può Che Si può Che Bibi Fa schifo Si può Che muoio sempre Comunque Cioè Dalla regia Mi dica Allora La regia Che ci ha aiutato A fare Il video Del giorno di Natale Sarebbe mia sorella Per far ricapire Signora regia Che è qui davanti a me Lei vuole fare Un video Un giorno Con noi Among Us o Brawl Venga vicino qui E dica Si o no Si però Odiamo un gas Ok perfetto Il prossimo video Di Among Us Ci sarà anche lei Perfetto Grazie regia Può Può tornare a fare Quello che sei Perfetto E Infatti Perché dal telefono Si sente Allora Proviamo a vincere Con 8 bit Brawler Che odio Fortemente Ma come te la sposerebbe Non so se si è sentito Ma mia cosina è andata Che se la sposerebbe Abbiamo avuto 3 partite E 8 bit Scusatemi ma Fatemelo dire Fa schifo Vediamo Rosa Facciamo l'ultima partita Ok Ok Ecco Dai Rosa Abbastanza forte Mi ricordo Che quando era uscita Stavo giocando Alla play Guarda Che brawler C'è il nuovo brawler Apro una cassa E l'ho trovato Ed è una storia Molto Molto lunga Non ce l'ho ancora E tu non ce l'hai Perché Tu Tu cosa fai Io Il gadget Ti posso Spanare I cospetti L'ho scioppato L'altra volta Perché io Se vedete Non mi porto mai Io Ho tanti brawler Al centro Mi porto al 7 Perché poi Nelle casse Non trovi brawler Ma trovi gadget Quindi io Me li porto al 7 Ma uno solo Me ne porto Se mi piace Così poi Me lo scioppo Il gadget Lei ha scioppato Una spindicelli E non sapeva Ma come si metteva Per farvi capire Ecco Ecco Al gadget Al gadget A chi mi sa A confonderti Un nemico Con me Comunque Spero che il video Vi sia piaciuto Se è così Fosse iscrivetevi Attivate la campagna Lasciate le commentate Condividete Dalla RGA Ci dicono Che il prossimo Di Damangase Sarà In tre Quindi me Mia sorella E mia cugina Saluta Che stasera Saremo in live Ciao Bella